Il Vangelo di oggi, insieme alle altre letture, ci propone una nuova tappa di preparazione alla venuta di Gesú nella carne e nella glòria. Ci viene chiesta la conversione, se vogliamo raggiungere la meta della salvezza, della crescita di carità e di conoscenza, se vogliamo distinguere ciò che è meglio. Questa conversione è possibile nel deserto, dove Dio parla più facilmente, dove la meditazione sulla Sua parola è un nutrimento sostanzioso, dove il superfluo non conta e l'essenziale è Signore. Qui troviamo Giovanni Battista, qui troviamo l'intervento di Dio che è l'único che può dare glòria ad ogni vivente. Il profeta Baruch ce lo dice con immagini festanti e di ritorno, con segni di dignità recuperata, con ridondanza di espressioni luminose. Rivestiti dello splendòria della glòria che ti viene da Dio per sempre. Metti sul tuo capo il diadema di glòria dell'eterno. Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua glòria con la misericòrdia e la giustizia che vengono da Lui. Come vedete, chi vuole la glòria e la pace promesse a Gerusalemme deve attenderle da Dio, attraverso la misericòrdia e la giustizia che vengono da Lui. Non solo dalla misericòrdia, ma dalla misericòrdia e dalla giustizia che sono apparse sulla terra in Gesú Salvatore. Egli ci farà pace di giustizia e glòria di pietà, se lo accoglieremo senza mutarne il pensiero a nostro vantàggio e senza limitarci nella conformazione a Lui. Saremo pace di giustizia quando accoglieremo il suo perdòno, che esige un cambiamento di vita e un pentimento sincero. Saremo glòria di pietà quando il nostro cuore sarà compassionevole e non duro o trònfio. Tutto questo sarà compiuto da Gesú, il quale si è fatto precedere da un precursore, che è il cugino Giovanni Battista, l'ultimo grande profeta dell'Antico Testamento dopo secoli di silenzio di Dio, che non inviava più profeti al suo popolo. Ecco dunque il contesto storico della presenza e della predicazione di Giovanni il Battista, un vuoto di profezia dove chi come lui ha raggiunto della parola di Dio parla per raddrizzare i sentieri che conducono al Signore. San Luca ci tiene a dare un'indicazione cronologica che vale anche a farci sapere chi governava a quel tempo la terra in genere e la terra promessa in ispecie. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello tetrarca dell'Iturè e della Traconitide e Lisània tetrarca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Annecaifa la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Quindi abbiamo come imperatore romano Tiberio e come governatori delle varie parti della terra promessa, Pilato, Erode, Filippo e Lisània. E sommi sacerdoti Annecaifa che faranno condannare Gesú. San Luca ci tiene a fare i nomi sia per collocare in un preciso momento storico la predicazione del Battista e il Battesimo di Gesú, sia per dire al lettore, se conoscete la vita di questi governanti, allora vi sarà chiaro il bisogno che c'è di preparare la via al Signore. Ad esempio, possiamo farci un'idea ben precisa della vita di Tiberio leggendo che cosa dice lo storico Svetònio. Proviene da una famiglia illustre per uomini eccezionali e sposa Agrippina malarripudia per Giulia di cui disapprovava la condotta. Ridusse in suo potere l'illirico, assunse il principato introducendo una certa parvenza di libertà. Represse ai culti stranieri e i riti egiziani e giudaici, costringendo quelli che professavano tali culti a bruciare le vesti da cerimònia e tutto l'arredo sacro. Col pretesto del servizio militare distribuì in province, dal clima piuttosto malsano, i giovani giudei, e allontanò dalla capitale gli altri dello stesso popolo e quelli che seguivano culti simili ad essi, sottopena di perpetua schiavitù. Come vedete è descritto quale nobile per Natali, ma adultero e incoerente, principe falsamente tollerante verso i romani e apertamente intollerante verso gli stranieri con una propria fede. Poi aggiunge Svetònio. Applicò le leggi di lesa maestà con la massima severità e nel restaurare i costumi si comportò crudelmente e ferocemente. Proruppe in ogni genere di crudeltà e non gli mancò mai la materia. Sarebbe lungo seguire dettagliatamente i suoi atti di crudeltà. Furono decritati particolari premi per gli accusatori, non risparmiò a nessuno torture e supplizi, tra i suoi obbi c'era un serpente. Cari fratelli e sorelle, perché sono andato a ripescare un po' della vita dell'imperatore Tiberio? Perché la predicazione del Battista non è solo per gli ebrei arrivati presso le rive del fiume Giordano, ma per tutti i superbi che non cercano il battesimo di conversione e il perdono dei peccati, per tutti coloro che non sanno apprezzare il silenzio del deserto e i doni del deserto, per tutti coloro che sono digiuni della parola di Dio sprezzanti della glòria che viene dal Signore. Eppure, Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, cioè tutte le altezze e glòrie di questo mondo. Non lo fa con un trattore o con le ruspe, ma con la parola infocata che proviene da una vita austera, pura e santa, che non conosce l'odio e la crudeltà, ma la potenza di un imperativo categorico. Salvare, salvare, salvare chi è corrotto dietro i suoi pensieri. Giovanni Battista non è mite e paziente come il Signore Gesú. È anzi un po' rude e irruento, perché vuole che Gesú trovi il terreno pronto e dissodato per la semina. Questo ci dice che talvolta, con i tiepidi, con i corrotti, con i crudeli, che si sono abituati al loro status e non riconoscono il loro peccato, occorre urlare il rimprovero profetico. Guai agli spensierati di Sion, io sarò frusta per tutti costoro. Come un mucchio di pruni saranno consunti come paglia secca. Vi ricordate Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi contro i mafiosi e gli assassini del Giudice Livatino? Anche lui, di fronte alla crudeltà che era diventata uno status, Cittus urlò, ma urlò di dolore, urlò per amore, urlò per salvare. Anche noi possiamo essere voce di uno che grida nel deserto, ma non 24 ore su 24, piuttosto tutte le volte in cui servirà la forza per opporsi al male e il grido di dolore per la mancata o ritardata conversione. Sia lodato Gesù Cristo.